Per la sedicesima giornata del campionato di promozione pugliese Girone A, Ilucera è tornato in campo e ha ospitato l'ultima della classe Fesca Bari allo stadio comunale domenica pomeriggio, vincendo l'incontro per 2 a 1. Una prestazione non brillantissima quella dei bianco celesti che all'inizio della gara hanno subito addirittura il vantaggio della squadra barese. La rimonta si è attuata per merito dei gol di Ruberrizzi e Clemente. I tre punti di questa gara portano Ilucera a 29, sempre a tre lunghezze dai playoff. Le prime cinque squadre hanno conseguito per questa giornata di campionato tutti i risultati utili che non hanno così permesso di perdere posizioni.